Maurizio Fondres, vediamo Maurizio Fondres questa mattina molto sorridente e beh non sarà solo per il sole Maurizio? Sicuramente con il sole penso che tutti i ciclisti sono sorridenti perché penso che la pioggia non piace a nessuno soprattutto in una gran fondo dove devi stare anche un po' di tempo prima della partenza ad aspettare quindi oggi con questo tempo penso sia una bella giornata ricordo a tutti che questa è una gara però è meglio sempre tenere tenere la destra anche se abbiamo la sicurezza sulle strade molto molto buona è sempre meglio stare molto molto attenti perché non ci possa essere qualche macchina che entra i consigli non bastano mai giustamente hai fatto bene a sottolinearlo però vorrei anche ricordare un altro aspetto molto importante di questa manifestazione un'iniziativa che tu stai portando avanti ormai da qualche tempo Innanzitutto devo ringraziare Gianni Bugno per la presenza Fabrizio Ravanelli che sono qua davanti con me c'è anche Sacchi, anche lui è ex professionista e poi più che ringraziare me è l'organizzazione che devolve una parte di quello che riusciamo a incassare per il progetto Fondres for Children che aiuta i bambini, i bambini di Haiti e i bambini dell'ospedale oncologico-pediatrico di Padova molto buona